La vincitrice del Grande Fratello per la Batievo doveva essere lei l'opinionista a fianco di Cesara Buonamici al nuovo Grande Fratello in onda per il 16 di settembre. Invece cosa è successo? Sembra che la ragazza sia stata eliminata e al suo posto è uscito quello di Beatrice Luzzi. Non è un'ipotesi ma una certezza, infatti la notizia è stata ufficializzata, lo sapremo proprio nella prima puntata di Verissimo, quindi la seconda opinionista sarà proprio l'attrice Beatrice Luzzi. E voi, chi preferite?